Buongiorno, sono Laura Spini, direttrice della fondazione ITS Last. Gli ITS sono percorsi di alta formazione, della durata di due anni, che uniscono la teoria alla pratica. Sono percorsi post-diploma, quindi formazione terziaria, molto professionalizzante. All'interno del percorso di due anni, metà delle ore sono svolte in aula, metà delle ore sono volte in stage. E gran parte dei docenti di questi percorsi arriva dal mondo del lavoro. La cosa fondamentale di questi percorsi sono le aziende. Le aziende partecipano alla creazione del programma, le aziende ci dicono di quali competenze hanno bisogno, le aziende partecipano appunto nello svolgere delle docenze e partecipano nella progettazione degli stage. Alla fine dei percorsi noi abbiamo un 95% di ragazzi che sono occupati per lo più nelle aziende dove hanno fatto lo stage. I nostri ambiti sono fondamentalmente tre. Noi siamo partiti nel 2011 nell'ambito della logistica, infatti la nostra sede è presso l'interporto di Verona. Qualche anno dopo abbiamo avviato il corso di logistica a Padova e nello scorso anno anche a Vicenza. E abbiamo attivato un corso di Service Manager, quindi sempre nel settore della logistica e della mobilità sostenibile, però più rivolto all'officina, alla concessionaria, auto e truck. E abbiamo attivato da tre anni, presso 311, un corso di Digital Transformation. Nel mondo dell'industria 4.0, qualsiasi azienda ha bisogno anche di queste competenze. Grazie.